13esima edizione della settimana della Biarchitettura e della Domotica. Siamo arrivati a un traguardo importante e il tema di quest'anno, che è stato pensato durante tutto l'anno da un comitato specifico, da un comitato scientifico che ha appunto studiato il percorso, ci ha portato a focalizzare sugli edifici storici, gli edifici vincolati, gli edifici che comunque formano buona parte del patrimonio edilizio pubblico e non solo, è privato di tutta Italia. Lavorare su questi edifici non è mai facile, serve una grandissima attenzione proprio per preservare quelle che sono le caratteristiche storiche e architettoniche degli edifici, serve però un impegno perché questi edifici rappresentano un grande serbatoio di risparmio energetico a cui poter accedere. Quindi in questa prima giornata cerchiamo di affrontare il tema che poi verrà sviluppato durante tutti gli altri giorni, le altre sessioni, cioè come abbinare l'intervento tecnologico a un intervento normativo, un intervento nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche del nostro enorme patrimonio storico che comunque intendiamo e vogliamo valorizzare e preservare. Qui l'esperienza sicuramente del terremoto del 2012 ci ha permesso di affrontare alcune tematiche e quindi già abbiamo un po' di esperienza e è sicuramente un tema molto attuale, quello del terremoto e di come affrontare poi il restauro conservativo di tutto questo enorme patrimonio. Quindi oggi le linee guida del Ministero, il MIBACT, che ha già iniziato ovviamente il lavoro di catalogazione, un lavoro enorme, delle esperienze fatte. Da qui vogliamo partire per poi nei prossimi anni iniziare a concentrarsi su dei casi concreti e vedere effettivamente quello che operativamente dovremo e potremo fare.